Arriva il gran finale della mostra del cinema di Pesaro in una 59esima edizione che sta riscuotendo consensi e grande partecipazione di pubblico. Gli ultimi due giorni accenderanno i riflettori sui due big assoluti del cinema italiano. Questa sera, venerdì 23 giugno, arriva un monumento della commedia come Carlo Verdone, che alle 21.30 sarà protagonista in Piazza del Popolo, di un incontro moderato da Barbara Sorrentini e del direttore del Pesaro Film Festival Pedro Armocida, prima della proiezione di Borotalco, pellicola diretta dallo stesso Verdone, a 40 anni dall'uscita nelle sale. Il sabato sarà invece il giorno del regista Giuseppe Tornatore, al quale è stato dedicato l'evento speciale di questa edizione del festival, con la proiezione di tutti i suoi film, che domani 24 giugno vedrà anche alle 10 di mattina la presentazione della personale monografia negli spazi del Centro Arti Visive Pescheria. Un sabato che culminerà alle 21.30 con Tornatore in piazza, che incontrerà il pubblico prima della proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, Oscar come miglior film straniero, nel 1990. Di Oscar ne ha vinti ben tre lo scenografo Dante Ferretti al centro ieri del giovedì del festival culminato con la proiezione di Ugo Cabret. Ferretti ha presentato a Pesaro anche Immaginare Prima, l'autobiografia di un grande artista partorito proprio dalla regione Marche. Io sono contento di essere nato qui nelle Marche, non so perché, comunque sono contento, soprattutto sono contento perché me ne sono andato, me ne sono andato per fare il cinema, non è che me ne sono andato perché non mi piacevano le Marche, le Marche trovo che sia una regione meravigliosa. Ferretti ha anche stilato il podio dei registi con il quale si è espresso al massimo della carriera. Sono tre, Pasolini Fellini e Scorsese.